Un saluto a tutti da SnowKills e ben ritrovati in un nuovo video su PUBG che ho registrato ieri E' stata una bella partita direi, quindi ho deciso di postarla Vi auguro buona visione e ci vediamo alla fine del video per un paio di considerazioni Grazie C'è una propria niancia, che gialla 34 live 34 live Se stanno là col cecchino sono spacciato 7 di cui uno è lì Ah mi devo mover Oh marda Oh my god 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 Oh my god